Da oggi la musica cambia. A colazione e merenda arrivano i Cereali G. Granola e frolla è un mix mai sentito. Gli sbricioli come cereali o gli inzuppi come biscotti. E il farcito integrale è l'unico con il benessere dei cereali e crema gianduia nero. Cereali G. Aggiungili alla tua playlist del gusto. Dal mondo galpusera.